Il grande presepe di ispirazione barocca di Acquasanta, a pochi chilometri dal mare, alle spalle di Voltri, è una proposta nuova di sicura e rapida affermazione. È un presepe vivente che si sviluppa con una vera e propria azione teatrale. Più di 50 personaggi vestono e si atteggiano secondo lo stile delle principali figure della scuola barocca genovese, muovendosi in rapida sequenza e sfruttando sapientemente l'articolata disposizione degli spazi attorno alla cappella che sorge sopra la sacrafonte, trasformata per l'occasione nella divina capanna. Gli abiti splendidi, i numerosi e bellissimi animali, gli ingegnosi e spettacolari effetti scenici ne fanno un avvenimento unico e, considerata la limitata capienza del posto, ne fanno un avvenimento, dobbiamo dirlo, anche esclusivo. E venne alla luce un bimbo, tutte le genti si prostrarono al suo cospetto, intimoriti e meravigliati dalla gran luce che emanava da quel neonato. Gli abiti splendido, grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.